Architettura, scultura, pittura e poesia. Un artista universale, come ce ne sono stati pochissimi nella storia, è Michelangelo Buonarroti, celebrato al Museo dei Capitolini in occasione del 450esimo anniversario della sua morte, avvenuta a Roma il 18 febbraio 1564. La mostra, dedicata a Michelangelo e al suo genio, creatore anche della piazza del Campidoglio, comprende oltre 150 opere arrivate da molte tra le più importanti istituzioni culturali italiane e straniere. Questa mostra, attraverso i due spazi di Palazzo Caffarelli e della Sala degli Orazzi e Curiazzi, in questa sede prestigiosa, ripercorre a tappe la vita di Michelangelo attraverso un criterio che è in linea di massima biografico e la sua lunga esistenza, 89 anni di vita, mette in contatto anche con tante personalità del suo tempo, i potenti dell'Italia e dell'Europa d'allora, i papi che servì in numero di cinque. Ma altresì ci mette in contatto con l'uomo Michelangelo attraverso una scelta di temi, spesso contrapposti, la vita e la morte, il corpo e l'anima, l'amore carnale, l'amore spirituale, la notte e il giorno, temi che hanno avuto in lui risonanze profonde, che lo hanno condotto in tarda età ad una profonda riflessione di natura spirituale e religiosa, e che attraverso le opere si sono manifestate con straordinaria potenza. Ci sono straordinari disegni che abbiamo riunito intorno a questi temi. Le opere originali forse più straordinarie vengono da Firenze, una della Casa Bonarroti ed è la giovanile Madonna della Scala, che Michelangelo sotto l'egida di Lorenzo il Magnifico scolpì a 15 anni, nel 1490 circa, e dal Bargello è venuto il bellissimo busto di Bruto, che qui a Roma, tra l'altro, riacquista anche una dimensione storica ulteriore, poiché fu scolpito a Roma, nell'ambito di quei fuoriusciti fiorentini esuli, cioè da Firenze a Roma, che il regime dei medici aveva cacciato. I capolavori di Michelangelo, i suoi studi, i disegni ed i provini sono raccontati in nove sezioni distinte. Un esempio del Michelangelo politico è il Bruto, che può essere ammirato a fianco a precedenti busti classici, come il Caracalla dei Musei Vaticani. L'arte ed il genio della lunga carriera del Bonarroti sarà esposto ai musei capitolini da domani fino al 14 settembre. Sarà possibile visitare la mostra dalle 9 alle 20, dal martedì alla domenica.